Ritratti sonori, meglio, sono ritratti. Sono ritratti, i colori della musica, è il titolo del secondo album di Maurizio Zammartino, chitarrista delle sponde mediterranee, applica proprio il suono del Mediterraneo alla sua sei corde. Giunge al suo secondo album solista, ma stavolta in queste sue dieci tracce non è da solo a tessere i fili di questo suono mediterraneo in metastrata tra il jazz, il fado addirittura, ma ancora il tango. In questo viaggio appunto, che è un viaggio sulle sponde del Mediterraneo tra l'Africa e l'Oriente, tra l'Africa, la Turchia, l'Italia, la Spagna, la Francia del Sud, si lascia affiancare da grandi musicisti come Emilio Osiello alle percussioni, Miriam Battanzio alla voce, la sua Notte e Primavera è probabilmente il brano più interessante di tutto il disco, e ancora la voce narrante di Martin Rua, che firma anche le note di cobertina di questo disco. Sono ritratti in un viaggio proprio sulle sponde del Mediterraneo, in un suono da scoprire fatto di piccoli, ma fatto anche di venti che vengono dall'estero. Tempo spaventato.